Buongiorno, notizia flash qui su Pausa Caffè Live. Per quanto riguarda il calcio, dove troviamo il difensore francese Lucas Hernandez, che si è infortunato al ginocchio ieri proprio contro l'Australia, è costretto a dare forfait per il resto dei mondiali di calcio del Qatar. E tutto questo viene subito reso noto, viene ufficializzato dalla stampa francese, in cui si evidenzia che il 26enne del Bayern Monaco non può essere proprio minimamente sostituito nel gruppo di Didier Deschamps, che dovrà quindi di conseguenza giocare il resto del torneo con un gruppo di 24 calciatori. Hernandez si è infortunato al ginocchio destro da solo mentre cercava di contrastare un pallone e ha dovuto essere sostituito dal fratello minore Teo al tredicesimo minuto. Il campione del mondo del 2018 si era già infortunato agli adduttori, già gli era successo lo scorso 13 settembre, ed era tornato alle competizioni il giorno 5 novembre, quindi ragione per cui bisogna un attimino stare più attenti visto che è stata una zona già colpita. Questo è tutto per questa notizia flash, vi ringrazio per l'ascolto, come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione in su di supporto e rimanete informati, tornate a trovarmi qui su Pausa Caffè Live.